ospitare questo webinar di presentazione del libro Etica per le istituzioni di De Professor Francesco Merloni e Alberto Pirni Etica per le istituzioni, un lessico è il titolo completo, è pubblicato quest'anno quindi freschissimo per Donzelli ne parleremo oltre che con gli autori che ringrazio per aver accettato il nostro invito anche con la professoressa Roberta Sala che agirà, diciamo, realizzerà il ruolo di discussant ma appunto prima di cedere la parola alla professoressa Sala che ringrazio ovviamente che per aver accettato il nostro invito ringraziando ancora una volta la professoressa Morganti per i suoi saluti e per il suo tempo grazie mille Gaetana passo quindi immediatamente la parola ditemi voi se prima al professor Merloni e il professor Pirni mi faccio decidere in diretta benissimo Alberto, grazie per questo libro per questo lo mostro eccolo qui grazie ne parleremo molto perché è peraltro frutto di un vero e proprio dialogo interdisciplinare che è un'altra caratteristica dell'istituto di Erpolis della scuola Sant'Anna fammi dire solo due cose per quelle due persone che non ti conoscono Alberto Alberto è professore associato di filosofia morale presso la scuola superiore Sant'Anna di Pisa qui coordina l'area di ricerca di etica pubblica è docente anche di etica pubblica è ethics of security e teorie della giustizia è anche agent professor in molti altri centri nazionali e internazionali è una grande disorsa della scuola Sant'Anna oltre che un amico quindi sono doppiamente felice di averlo qui con noi Alberto, grazie e ti lascio la parola grazie molte Giuseppe grazie al professor Martinico e grazie alla professoressa Morgante per le loro parole iniziali Giuseppe al di là della forma la sostanza del mio grazie come sai è ricambiata dalla mia amicizia sincera e stima del pari sincera nei tuoi confronti per avere prolungato anche in questa veste un dialogo che in vero tra le noi data tantissimi anni addietro questa sera grazie alla vostra sensibilità e all'opportunità di discutere insieme volevamo e grazie all'opportunità di poterlo fare con l'amica e collega Roberta Sala innanzitutto e con chi avrà piacere poi naturalmente di intervenire vorremmo insieme a Francesco Merloni come dire provare a illustrare qualche linea di un progetto che ci ha impegnato in vero per alcuni anni e che continua a farlo costituendo se lo diceva bene nelle sue parole introduttive la nostra direttrice come una linea forte e guida del nostro istituto cioè dell'istituto di diritto, politica e sviluppo parliamo di quello che mi piace pensare identificare come la sostenibilità etica delle e nelle istituzioni e nel fare ciò noi abbiamo provato insieme a Francesco Merloni a costruire, a fare come dire un'operazione forse come dire minimale negli esiti che ci faceva però in vero tremare un po' le vene ai polsi quando la articolamo minimale negli esiti perché vorrebbe essere solo un lessico come giustamente dicevi Giuseppe ovvero innanzitutto una raccolta di parole quindi un tentativo di fare chiarezza rispetto a un linguaggio complessivo e comune per tutti noi però vi dicevo ci faceva un poco tremare le vene ai polsi quando iniziamo a pensarci perché questo lessico e questa impresa aveva a che fare con qualcosa di terribilmente complesso terribilmente complesso perché le parole di cui questo libro prova a dar conto prova a rileggere e rileggere nelle forme e nei modi chi avrà piacere di leggere potrà vedere ma che come già giustamente tu dicevi introducendo Giuseppe è speriamo virtuosamente o comunque volutamente da parte degli autori scritto a quattro mani cioè in un costante dialogo tra la filosofia e il diritto era un modo dicevo per fare chiarezza rispetto a quanto a quanto spesso ci troviamo a dire senza poter padroneggiare compiutamente io sono solito citare l'antico adagio di Hegel il noto proprio perché noto non è conosciuto per ricordare qualcosa cioè ricordare che noi quando usiamo alcune parole e segnatamente quelle che troveremo e che potremo magari commentare insieme parole che spesso sono destinate a un uso pubblico un uso tipico del linguaggio delle istituzioni beh per lo più tendiamo a darne per scontato il significato tendiamo a pensare che sì certo questo lo sappiamo comprendiamo che cos'è e allora non ci peritiamo di andare a verificare qual è il significato davvero di etica e di etica pubblica quale quello di corruzione o di integrità di imparzialità di funzionalità di trasparenza di conflitti di interesse o di conflitto di interessi di pere o di anticorruzione o ancora di responsabilità e buona amministrazione cioè sono tutti lemmi che per lo più pensiamo di avere completamente a nostra disposizione o idealmente presenti nel nostro vocabolario di più comune significanza e uso in realtà provando con francesco a fare un poco di ordine in tutto ciò ci siamo resi conto come spesso siamo di fronte a due tipi di atteggiamenti da un lato un atteggiamento semplificatorio a dire vabbè certo è tutto chiaro è tutto presente dall'altro un atteggiamento che traduce un certo abbandono di quel lessico a un segmento peculiare del nostro viver civile come a dire quei significati appartengono a alcuni impersonatori o persone che lavorano in prima istanza e in prima persona appunto nelle istituzioni e non riguardano tutti gli altri insomma quelle parole circoscrivono regioni di senso e di significato condizionate a un uso molto selettivo e peculiare quello che abbiamo provato a fare invece insieme a francesco è provare a riscattare per un verso la complessità delle radici teoretiche etiche in ciò e giuridiche del pari di quelle parole per l'altro capire come quelle parole possano vorremmo dire debbano essere usate in un senso compiutamente rinnovato e aggiornato anche alla luce di una sorta di terminus aquem cioè di un fatto che ha creato un punto di riflessione condivisa quel fatto non sta a me dirlo certo lo dirà il già presidente dell'autorità che sto citando è stata l'istituzione appunto nell'autorità nazionale anticorruzione e il tentativo di provare a capire come la vita pubblica di questo paese potesse e forse dovesse anche informarsi a uno standard di più elevata non solo punibilità del malaffare questo non avevamo bisogno della istituzione dell'autorità per farlo ma anche un'attenzione maggiore alla a tutti i vari aspetti preventivi di immunizzazione rispetto a modalità corruttive che le istituzioni di per sé non solo ovviamente aborrivano e negavano in termini normativi ma vorrevano ancor più essere rafforzati a fare ecco parte da qui il percorso che abbiamo provato a fare abbiamo provato a compiere e che vorrei se mi è consentito secondo quanto il professor martinico ci dava nei termini così della nostra preventiva articolazione di questa bel pomeriggio bel segmento di discussione vorrei davvero in pochi minuti illustrare a modi a fresco complessivo un po il disegno del volume per poi dare la parola al professor merloni e che mi ha onorato di poter fare insieme questo percorso e questa scrittura il primo lemma che i lettori si troveranno di fronte nell'affrontare il libro accanto alla prefazione del dottor raffaele cantone che come tutti voi sapete è stato il primo presidente dell'autorità nazionale dell'anticorruzione che ci ha fatto l'onore di prefare e di volere avviare la lontura la passura di questo libro dicevo il primo lemma è il lemma più onnicomprensivo diciamo così l'ombrello più largo concettuale teorico ma anche di fatto strutturale ed è il lemma di dedicato al concetto di etica pubblica viene qui chiarito in che senso che cos'è l'etica in che senso può dirsi pubblica in che senso l'etica pubblica riguarda ogni cittadino e deve poter riguardare ogni suo rappresentante istituzionale parliamo del funzionario pubblico ma parliamo dell'istituzione che esso funzionario o egli o ella in persona nel suo dire nel suo fare e ovviamente il quel lemma e quel capitolo cerca di mettere in guardia il lettore fin dall'inizio da un misuse da un cattivo uso dell'etica cioè a mettere in guardia da usi moralistici del termine che spesso vorremmo dire troppo spesso ne connotano appunto i farsi quotidiani perché cercare di capire cosa l'etica può dire o deve dire alle e per le istituzioni beh dobbiamo partire dalla sua più importante negazione dal suo più importante opposto diametrale ecco perché il secondo capitolo si occupa di inquadrare la corruzione il concetto di corruzione cercando di capirne i suoi significati etimologici i suoi le sue radici semantiche che affondano nella stessa nelle stesse origini del pensiero greco così come la stessa parola etica eto derivante da etos fa ma anche cercando di svilupparne di comprenderne cosa corruzione significa fare il dire il fare e l'agire giuridico contemporaneo a partire da una sua significazione appunto giuridico amministrativista e giuridico penale naturalmente anche corruzione non vi sembri troppo eghigliano questo mio presentarlo ma forse mi viene così e ve lo voglio presentare in questi termini aveva bisogno di essere negata cioè aveva bisogno di essere contrappuntata a bimis fin dalle sue fondamenta e ovviamente essendo corruzione un male sottile pernicioso a rapida capacità di infiltrazione pulviscolare ebbene aveva bisogno di un contrapunto molto articolato molto ampio molto diversificato ecco perché insomma il primo contrapunto che noi troviamo e che il lettore troverà leggendo il libro è legato al capitolo terzo cioè integrità vorremmo capire come si può non essere corrotti esattamente risemantizzando il significato delle dell'essere e dell'agire secondo integrità e questo significa ripensare all'integrità come imparzialità ma anche come capacità di integrarsi e di migliorarsi come come esercizio di imparzialità ma anche nell'esercizio del farsi come esercizio di imparzialità come esercizio di prevenzione della corruzione e come principio costituzionale come principio di costituzionale e quindi allargando nuovamente all'arco della nostra carta della convivenza migliore e più importante che abbiamo disposizione ecco questo significa aprire un altro un altro ulteriore prisma più complessi più complessivo grazie alla frequentazione a lavorare diciamo così gomito a gomito con francesco imparato a comprendere che esiste un versante come dire oggettivo dell'etica per l'istituzione e del suo contrasto è un versante soggettivo il versante soggettivo oggettivo scusate a che fare con quello che noi mettiamo nel capitolo 4 cioè l'idea di imparzialità e di funzionalità delle istituzioni contro anche alcuni dati comuni l'anticorruzione rallenta dobbiamo semplificare andiamo verso una burocrazia zero beh proviamo a capire che cosa fa la funzione e la funzionalità di un'istituzione ma poi proviamo anche a capire cosa fa deve fare chi quell'istituzione abita cioè il funzionario ecco così dedicato questa figura sondamentale per ogni comprensione e preensione dell'amministrazione pubblica il capitolo quinto del nostro tipo pensare al funzionario significa però risemantizzare ovvero adottare di nuovo significato l'intero vocabolario concettuale col quale egli deve avere a che fare cioè pensare innanzitutto a livello metacomportamentale cioè al di là di quello che è il suo agire a come gestire una molteplicità di fattori di input di occasioni di riflessioni vorremmo dire con una parola unica di interessi allora essere un funzionario pubblico significa certamente capire che cos'è l'interesse pubblico e saperlo contemperare o gestire nella compresenza di molteplici spesso contrastanti spesso confliggenti interessi privati ecco così il capitolo sesto dedicato a al concetto di interesse e al concetto non meno problematico di conflitto di interessi conflitto di interessi e la gestione del medesimo può avere cittadinanza piena nell'agire nel nel farsi della comportamentale del funzionario se e solo se il funzionario sa rispondere con un sì convinto a una domanda fondamentale la domanda fondamentale che cosa devo fare cioè qual è il mio dovere per comprendere quindi questa domanda il farsi di questa domanda l'inagirabilità di quella di quella domanda e la necessità di quella risposta il capitolo 7 si incarica di circoscriverla meglio circoscrivendo esattamente elaborando il concetto di dovere ovviamente dire dovere significa dire qualcosa che assomiglia asintoticamente ovvero e guaglia l'idea di una legge universale necessaria una legge che si applica qui e in ogni luogo cioè nel qui ed ora ma anche in ogni tempo in ogni spazio ecco perché il dovere non deve aver paura di poter essere mostrato dimostrato reso evidente così come ogni passo del fare e della gira amministrativa il capitolo ottavo si incarica di dare voce a questa esigenza ragionando appunto intorno al concetto di trasparenza e così lo fa nella sua articolazione che ha a che fare ovviamente magari ci torneremo non lo so se avremo modo dipenderà anche dalla sensibilità di chi parlerà con me dopo di me sul concetto di opacità o non opacità della gestione del potere ulteriormente però trasparenza ci riconduceva alla possibilità di creare un presidio soggettivo l'agire del funzionario ma anche un presidio oggettivo ancora una volta l'istituzione sia essa il comune la regione la provincia la lente locale o qualsiasi diciamo comparto della pubblica amministrazione che però si accompagna alla possibilità di un supporto di un presidio di legalità costituito una volta per tutte e quel presidio che si chiama o può essere raccolto sotto il largo ombrello concettuale dell'anticorruzione e per dire ciò e per dare significato di questo presidio il capitolo 9 si distende lungo questi profili quello dell'anticorruzione quello della politica presidiata da questa autorità dall'autorità che ho menzionato prima cercando di capirne i poteri i limiti e gli territori di operatività ma tutto ciò e forse in maniera come dire come conclusione viatico per il lettore e così davvero concludo anche vorrebbe lasciare una una sorta di take on message di messaggio complessivo comprensivo e sempre da rinnovare da risignificare di fronte al lettore intendo il capitolo 10 che nuovamente evoca un fantasma o forse un convitato di pietra di tutta la discussione che abbiamo condotto fino ad ora lo evoca e lo cerca di rendere non fantasma ma compagno di strada il tema è il concetto di burocrazia cercando di capire come della burocrazia non solo non possa fare a meno ogni ragione e regione della convivenza che intenda mantenere lo status di democratica ovvero libera e uguale per ciascun cittadino ma anche capire come burocrazia sia il fiat anche di una rinnovata comprensione dell'amministrazione del farsi buona amministrazione e come questo il farsi di ogni buona amministrazione ovvero il buon farsi di ogni amministrazione non possa andare disgiunto dalla capacità di evocare risposte cioè dalla capacità e necessità di dire risponde sono qui per dare ragioni motivazioni del mio agire del mio operare del mio dire sì o del mio dire no ecco quindi la ultima parte della nostro libro che intorno al concetto di buona amministrazione prova a costruire una rinnovato percorso intorno alla dimensione della responsabilità della responsabilità morale della responsabilità politica e naturalmente della responsabilità giuridica si chiude il nostro percorso dicendo che tutto ciò non vuole essere una negazione o un tentativo di esaurire il discorso dell'etica per la pubblica amministrazione bensì il modo per renderla qualcosa di terribilmente evidente ovvero rinnovarne l'evidenza della sua inagirabilità per ogni pubblica amministrazione per il farsi di ogni pubblica amministrazione per la buona amministrazione a venire che speriamo possa vedersi anche come dire on the verge alla vigilia i nuovi piani sistemici che stiamo che questo paese l'europa intera forse il mondo intero sta per avviare in questi prossimi mesi mi fermerei qui giuseppe per questo momento grazie mille alberto anche grazie per la estrema puntualità e precisione che con cui hai in tempi seppur di dotti dato una perfetta panoramica di quelli che sono i contenuti del libro e adesso cedo immediatamente la parola a professor francesco merloni dell'università dei studi di perugia già componente e poi presidente dell'autorità nazionale dell'anticorruzione dal 2014 al 2020 grazie per aver accettato tutto il nostro invito prego cedo la parola a professor merlon prego al microfono spento ci siamo perfetto grazie ancora allora dicevo non c'è bisogno di ringraziare perché ogni volta che si creano occasioni come queste per me è un piacere e anche un dovere civile nel senso che abbiamo scritto questo libro non per una mela testimonianza ma perché pensiamo che sui temi che questo libro affronti sia necessario tenere viva l'attenzione troppi segnali di cui parlerò ci dicono che le parole e i significati che noi abbiamo curato nelle parole sono ben lungi da essersi definitivamente consolidati e che sono in realtà continuamente soggette a processi di revisione come è stato detto questo è un libro scritto a quattro mani in cui volutamente in ciascuno dei capitoli del libro noi non ci siamo presi la responsabilità di questo paragrafo o di quell'altro anche se volendo non è poi così difficile indovinare chi ha scritto l'una cosa e chi ha scritto l'altra ma perché volevamo mantenere questo approccio in cui dare il segnale che pur scrivendo ciascuno una parte un dieci righe o un paragrafo il pensiero era effettivamente comune ed era un pensiero che nasceva da un confronto dal confronto tra diciamo fondamentalmente un lavoro quello che ha fatto Alberto che potremmo dire non è un lavoro filosofico solo filosofico è un lavoro di scandaglio dei significati si potrebbero dire eterni universali di alcune parole chiave in materia di etica pubblica mentre il mio era più dove il lavoro di chi naturalmente da un versante giuridico doveva dar conto del fatto che quelle parole a te eterne universali in Italia in Italia in particolare si erano arricchite in maniera significativa di contenuti e di significati nuovi e che questo quindi questo c'è stata una vicenda che potremmo limitarci a dire una vicenda culturale di evoluzione del pensiero e del significato di parole è anche e anzi è stata soprattutto una vicenda istituzionale cioè senza l'autorità anticorruzione né per Alberto né per me sarebbe stato neanche possibile immaginare né il libro né la sua utilità perché nel lavorare tra l'altro Alberto ha collaborato con l'autorità il discorso sui doveri è un discorso che nasce da una riflessione che l'autorità ha avviato proprio nel momento in cui voleva prendere sul serio il tema dei codici di comportamento dei funzionari pubblici e lo ha fatto mettendo in piedi un gruppo di lavoro il cui ha coinvolto non i soliti pur autorevoli giuristi ma filosofi psicologi cultori della organizzazione e anche economisti e politologi quindi diciamo il lavoro che l'autorità ha fatto è un lavoro eminentemente culturale proprio per la novità dell'approccio che spesso viene dimenticato ed è stato anche eccessivamente banalizzato nel corso degli anni io qui mi limito soltanto a rivendicare l'elemento essenziale attraverso il quale si capisce tutto il ragionamento cioè è stato detto ripetuto anche da autorevoli colleghi che l'autorità nasceva come fosse è stato scritto come fosse una propagine del giudice penale nelle pubbliche amministrazioni quasi che fosse un gendarme che era lì per scoprire vicende penali nulla di più inesatto e infondato l'autorità non sta lì per naturalmente se viene a conoscenza perché riceve segnalazioni di fatti aventi rilevanza penale li segnala a chi di dovere così come segnala fatti attinenti responsabilità di tutti i tipi disciplinare o di responsabilità amministrativa contabile della corte dei conti ma il suo ruolo non è questo il suo ruolo fondamentale è aiutare le amministrazioni a prevenire il rischio di comportamenti di mala amministrazione di vera corruzione di malaffare in generale di spreco delle risorse pubbliche questo è il senso su cui è stata costruita l'autorità ed è stata costruita come autorità indipendente proprio perché non poteva essere un'autorità legata ad indirizzi politici doveva tenere un comportamento un'attenzione presso le amministrazioni che fosse percepita anche dai funzionari dai cittadini come un punto di riferimento sicuramente indipendente a cui rivolgersi e da cui ottenere anche consigli supporto raccomandazioni sostegno e qui nasce l'approccio fondamentale di tutto il discorso invece di limitarci a fare stato detto anche questo scignottamento del giudice penale noi non abbiamo neanche non ci siamo neanche posti il problema di che cosa dovesse fare il giudice penale ci siamo posti il problema di cosa dovevamo fare noi che cosa la legge diceva la legge diceva aiutate le amministrazioni a dotarsi di piani che attraverso i quali sono identificate misure organizzative oggettive con le quali le amministrazioni prevengono il rischio non aspettiamo il danno non aspettiamo che si produca il reato o il danno erariale agiamo prima agiamo sull'organizzazione amministrativa e questo è questo stesso fatto il fatto di porsi sul piano della collaborazione con le amministrazioni il piano nazionale anticorruzione dell'ANA è il piano che dà dei suggerimenti alle amministrazioni sui metodi che devono seguire ma l'anticorruzione non la fa l'ANA lo fanno le amministrazioni questo è il punto è l'approccio essenziale e naturalmente in tutto questo ci siamo anche accorti di quanta fatica facciano le amministrazioni in che condizioni spesso molto drammatiche sono state lasciate le amministrazioni in Italia e quindi abbiamo potuto elaborare un complesso di posizioni suggerimenti che hanno dato a quelle parole eterne un significato oggi imprescindibile trasparenza sulla loro organizzazione soprattutto chi non ha chi ha resistito diciamo con tenacia sotterranea per molti anni silenziosa è stata la politica è riuscita ad impedire che pezzi delle politiche anticorruzione la riguardassero e oggi oggi noi assistiamo a qualche segnale non non da trascurare pensate a questa norma molto ambigua che è stata introdotta dal decreto Brunetta in cui apparentemente il dipartimento della funzione pubblica sembrava non è ancora finita la cosa riprendersi un pezzo delle delle competenze dell'ANAC in materia di trasparenza o addirittura imponeva alle amministrazioni di fare un pianone onnicomprensivo nel quale il piano anticorruzione si andava ad annacquare ma penso anche a dichiarazioni di forze politiche la vicenda dei contratti pubblici su cui potremmo parlare per ore è una vicenda assolutamente esemplificativa di questo atteggiamento cioè la politica invece di cambiare le amministrazioni sapendo che le amministrazioni sono in difficoltà hanno preferito lasciarle nelle condizioni di difficoltà continuamente aggirando le regole dallo sblocco a cantieri a tutti i decreti prima conte oggi draghi siamo pieni di deroghe di commissari straordinari di misure eccezionali che non finiranno mai che saranno sempre misure di carattere emergenziale in cui voi capite il primo il primo a fare le spese saranno i conflitti di interesse la cura la cura dell'imparzialità cioè rischiamo di tornare di un ambiente culturale nel quale il rispetto delle regole e soprattutto il rispetto delle regole sull'imparzialità che è come dire è l'essenza stessa costituzionale delle amministrazioni dei loro funzionari basta guardare l'articolo 54 97 98 della costituzione per capire se si se si smantella questo se smantella diciamo la dimensione costituzionale delle amministrazioni eppure sentiamo esponenti di tutti i partiti politici che dicono eh ma la stagione dell'Anac insomma più o meno è finita quello che doveva fare l'ha fatto adesso è il momento del fare eh questo 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 momento del fare come come se e poi il fare contro una burocrazia la domanda a questo punto verrebbe spontanea ma chi fa chi fa gli appalti pubblici se non una pubblica amministrazione e poi come li deve fare li deve fare come come chiedono alcune parti oppure lo deve fare in modo imparziale ed efficiente il fare non vuol dire necessariamente fare bene molto spesso vuol dire fare male se non ci sono regole e controlli sull'attuazione delle regole pensate soltanto alla vicenda del porto del ponte di Genova che nasce da una carenza drammatica di controlli da una privatizzazione insensata di affidamento di beni pubblici come i viadotti di ponti affidati a soggetti privati i quali non hanno fatto la manutenzione a cui erano tenuti per contratto pur guadagnando cifre enormi dalle tariffe senza che ci fosse un controllo voi capite se questo è il fare intanto evocato modello Genova è stato anche l'evocare un modello in cui si realizza un ponte praticamente senza gara perché questo è avvenuto non c'è stata una gara per individuazione dei soggetti che l'hanno realizzato una situazione del tutto eccezionale su cui l'Unione Europea ha chiuso un occhio è che difficilmente si può riprodurre eppure eppure burocrazia il ritardo l'ANAC che aggiunge l'ANAC che aggiunge i controlli rispetto a quelli al timore della Corte dei Conti e del giudice penale voi capite che si tende a fare un disegno un quadro in cui il rispetto di regole che sono regole di buona amministrazione qui il richiamo che ha fatto anche Alberto al nostro capitolo decimo è essenziale se non c'è una buona amministrazione non c'è etica pubblica questo è diciamo forse il messaggio fondamentale l'etica pubblica non si realizza semplicemente per un'adesione personale dei funzionari cosa assolutamente necessaria ovviamente ma è necessaria ma non sufficiente se non investi nel modo di funzionare dell'amministrazione se non spendi se non doti le amministrazioni di funzionari preparati e preparati ad essere funzionari pubblici imparziali non condizionati da interessi privati praticamente ritorniamo nelle mani dei poteri forti delle pressioni lobbistiche e della fine anche del principio un principio liberale come principio di libera concorrenza in realtà quindi come vedete questo libro non è diciamo una pura testimonianza è se vogliamo anche un appello a tenere intanto ad assimilare questi nuovi avanzamenti conoscitivi che si sono realizzati e custodirli forse direi custodiamoli e diamogli un significato ogni giorno vedendo ponendoci rispetto a ciò che vediamo sotto i nostri occhi torniamo a quelle parole e vediamo se le stiamo rispettando le stiamo arricchendo o al contrario gli stiamo dando un significato più povero di arretramento di ritorno all'indietro questo è normale anzi direi che dal punto di vista qui non c'entra né il diritto né la filosofia o tutti e due insieme ma c'entra la politica qui è la politica che deve fare il proprio il proprio ruolo la politica deve capire che non ci sono non ci sarà mai una un'etica pubblica se non c'è una buona amministrazione e viceversa se non realizzi una buona amministrazione tu non dai non solo non dai ai cittadini la tutela dei loro interessi ma finisci per non curare gli interessi generali e quindi ti esponi alla pressione degli interessi particolari non ho il tempo per farlo ve lo segnalo solo se non avessi scritto questo libro non avrei capito che cosa è successo sui vaccini e devo dire io lo dico perché preferisco essere molto esplicito nelle cose mie come Alberto sa trovo scandaloso il comportamento della commissione europea sui vaccini cioè che la commissione europea nonostante si chieda da anni la liberalizzazione dei brevetti nonostante il parlamento europeo abbia votato a maggioranza per la liberalizzazione dei brevetti la commissione europea che è oggetto della pressione lobbistica delle grandi case farmaceutiche in realtà è l'unica vera oppositrice ormai di politica di liberalizzazione dei brevetti voi capite quanto è importante tenere il punto su nozioni come conflitto di interessi lobby chi fa gli interessi di chi e non si fa influenzare in maniera stabile dal modo in cui certi interessi sono rappresentati oggi l'unione europea ragiona sui brevetti secondo quello che gli dice feitz sostanzialmente lo dico in maniera molto brutale forse è un po' esagerata però è molto vicina alla realtà allora noi non possiamo immaginare che ci siano amministrazioni che agiscono secondo gli interessi di parti se no è finita è finita il significato stesso della cura dell'interesse generale questo è il nucleo diciamo culturale e politico fondamentale per cui questo libro è stato scritto e dovrà avere un seguito io penso che tutte le persone dotate di buona volontà intorno al tema dell'etica pubblica dovranno trovare delle forme per far sentire la propria voce in momenti che non sono del tutto facili come quelli che stiamo attraversando grazie grazie mille a professor Merloni adesso è con grande piacere che passo la parola alla professoressa Doverta Sala che è ordinaria di filosofia politica presso la università vita salute San Raffaele mi piace dire che ha immediatamente accettato l'invito quindi io non posso che ringraziarla anche a nome e questo vale ovviamente anche per Alberto e Francesco anche a nome di Giacomo delle donne che coordina con me il programma Stars grazie mille la professoressa le lascio immediatamente la parola prego sono io che ringrazio voi per l'invito che davvero mi onora e mi sento un pochino in imbarazza in questo momento perché ho imparato moltissime cose e il mio ruolo qui sarebbe di offrire qualcosa a mia volta e non so che cosa potrò offrire se non forse qualche lettura che che posso dare del libro che ho letto con estremo interesse quando quando il professor Pirmi me lo ha me lo ha sottoposto quindi quello che mi sentirei di fare è proprio dire che cosa una lettrice ha ricavato da questa lettura e farò qualche commento ma davvero a questo punto della discussione è ben poca cosa perché le cose fondamentali e non è un vezzo sono state dette e molto di più anche di quanto io abbia potuto capire alla lettura e ringrazio gli autori per questo naturalmente e per iniziare quindi io vorrei davvero onorare questi interventi di cui ho preso appunto proprio per ribadire alcune questioni che che credo mi riguardino e ci riguardino profondamente per esempio un primo spunto è uno spunto semplice e va proprio al tipo di lettura che questo testo ci offre cioè come lettore come la lettrice nel mio caso si è posta di fronte a questo testo un testo che immaginavo accademico ma nel senso deteriore del termine quando utilizziamo questa parola lo è naturalmente è ricchissimo è una ricchezza davvero notevole di concetti ecco però io ho apprezzato profondamente questa idea di scrivere un testo che partisse partisse da una ricognizione di tipo terminologico sono io che produco questi piccoli credo che ci sia qualche partecipante che entra e esce questo suono jackpot è dovuto a quello prego prego grazie dicevo questo testo che diceva professor Pirni in fondo è un lessico minimale negli esiti ecco non lo è affatto questa raccolta di parole che è fondamentale come premessa per una chiarezza terminologica così ho scritto infatti io ho apprezzato moltissimo questo sforzo di relazione tra i saperi che qui sono stati messi in gioco ho apprezzato molto questo intreccio e francamente io devo dire non so chi ha scritto che cosa cioè a dire posso immaginare chi abbia scritto che cosa naturalmente però il lettore non si come dire non trova ostacolo in questa lettura è un fluire di concetti è un fluire di una riflessione che è unitaria questo penso sia un elemento centrale non solo per la resa del libro e la sua bontà ma è una questione fondamentale perché dice della profonda interdisciplinarità di un lavoro come quello di chi fa etica pubblica o ne scrive o ne riflette quindi una dimensione davvero direi proprio interrelata un'integrità tra le varie parti che ne danno un risultato omogeneo e coerente nel suo insieme quindi questo io trovo sia un elemento da valorizzare ecco da proporre ecco come elemento particolarmente prezioso per un futuro lettore ancora che cosa mi sono segnata poi verrò alle cose che mi ero appuntata una cosa che diceva il professor Pirni e che mi ha davvero colpito quando lui ha detto poco fa noi abbiamo desiderato opporci all'idea che alcune parole io mi sono presa questo appunto riguardino solo gli altri cioè a dire come se l'estensore di questo lavoro ci invitasse a pensare che l'etica pubblica riguarda tutti e ciascuno e infatti io ho questa visione che guardo naturalmente cioè l'idea che l'etica pubblica non sia delle istituzioni come se non fosse interessante per coloro che ne fruiscono per coloro che si aspettano dalle istituzioni un servizio insomma per i cittadini non riguardano gli altri queste parole riguardano tutti e ciascuno nella nostra veste di cittadini e questo credo sia un altro punto fondamentale ed è stato più volte ribadito anche dal professor Merloni e questo perché per me l'etica pubblica è questa cosa qui è questo spazio di giudizio che noi abbiamo il diritto e il dovere di formulare rispetto alle istituzioni alle politiche alle scelte collettive questa è un po' la mia definizione e quella di cui mi servo per iniziare anche io i miei corsi di etica pubblica questo credo davvero importante il professor Merloni esordendo ha detto scrivere questo testo è stato un piacere ma anche un dovere civile anche questo mi ha profondamente colpito perché mi rimanda perché rimanda alla mia idea che naturalmente non è originale cioè non è mia ma in realtà la prendo a prestito perché questo ha a che fare col ruolo del cittadino e del filosofo politico ad un tempo ecco l'idea adesso parlo di filosofia politica perché è ciò di cui mi occupo però al posto di filosofo politico potremmo dire il filosofo che si occupa delle cose della città a qualsiasi filosofo che non viva sulla torre d'avorio sempre che esista un vero filosofo che vive sulla torre d'avorio e con dovere civile anche questo mi ha profondamente colpito cioè la filosofia se non è pubblica non è a questo punto mi verrebbe da dire quindi è l'impegno per il chiarimento concettuale lessicale terminologico ma questo è un impegno civico e io ringrazio il professor Merloni per avercelo ricordato la filosofia politica ha molti ruoli ma deve assolvere anche a questo ruolo deve deve fare qualcosa per la cittadinanza e questo libro fa qualcosa per la cittadinanza per questo il mio punto di vista è naturalmente parziale credo che sia un testo filosofico senza timore di qualificarlo così oltre che tutte le altre cose rispetto a quest'ultimo punto quando ancora ascoltavo i due autori arriva a dire che questo testo è frutto di un lavoro interdisciplinare ecco c'è un altro elemento della filosofia politica che mi piace ricordare quando qualcuno ha sostenuto e ha scritto e molti lo hanno fatto a vero dire la filosofia e la filosofia politica è qualcosa di molto impuro ecco a me piace pensare all'impurità della filosofia che per me significa la sua capacità di contagiarsi con ambiti che non le sono propri con gli ambiti del diritto dell'economia ecco per me la impurità della filosofia è il suo valore aggiunto ragione per cui un filosofo e un giurista un professore di filosofia un professore di diritto e che anche molte altre cose come è stato ricordato si mettono a creare qualcosa di innovativo ed utile per la cittadinanza che cosa mi ero segnata ecco io avevo appunto avuto modo di leggere questo testo e avevo fatto una mia riflessione qui riproporrò alcuni passaggi soltanto alcuni perché molti dei passaggi sono stati già ricordati dagli autori però li vorrei sottolineare proprio di nuovo per dare l'idea di me lettrice lettrice attenta e coinvolta in quello che viene detto la prima cosa questa idea dell'etica che dell'etica pubblica che non corrisponde al moralismo questo è stato ribadito dal professor Pierni esattamente quello che io credo l'idea come anche ci è stato spiegato dal professor Merloni che l'etica pubblica etica delle istituzioni ma anche etica dei rappresentanti delle istituzioni ma anche di coloro che si rivolgono alle istituzioni insomma è da scoprirsi come un senso di moralità pubblica ecco io amo molto questa espressione quella di moralità pubblica perché moralità perché non si parla delle morali che sono molte che sono sostantive che sono progetti coerenti al loro interno ma si parla di una moralità pubblica e la moralità pubblica ha a che fare per l'appunto con l'istituzione con il nostro appartenere alla cittadinanza con la nostra comunanza come cittadini ma questa moralità pubblica e questo è il motivo per cui il libro mi piace mi è piaciuto molto è una moralità in cui morale e diritto si parlano quindi non può esistere una moralità pubblica secondo me che prescinda dal suo rapporto col diritto e qui la lezione kantiana credo valga valga moltissimo la lezione kantiana viene riproposta all'interno di questo testo quando si parla di etica come ricordava prima Alberto si parla anche dell'accezione kantiana di etica oltre che di molte altre accezioni io sono particolarmente affezionata a quest'idea di rapporto tra morale e diritto che Kant delinea e fatto salvo che appunto ci sia qualche kantiano di ferro che mi possa contestare ma insomma cercherò di dire che non si tratta tanto di una lettura di una lettura filologica la mia bensì quella che vede nella soluzione kantiana dell'etica per la politica una soluzione tutt'altro che moralizzatrice della politica ecco questo mi interessa ribadire quindi non si tratta di un impegno per la moralizzazione della politica semmai si tratta di un impegno ad innalzare il livello della moralità pubblica come richiesta da uno Stato democratico in altre parole le istituzioni non devono insegnare la morale a nessuno le istituzioni devono fare la loro parte ad innalzare il livello della moralità questo credo stia ad indicare l'idea che si ritrova in questo testo per cui parlando di etica pubblica non si parla affatto di moralizzazione e questo perché perché qualsiasi forma di moralizzazione in fondo è un modo anche per calpestare le libertà individuali e qui mi interessa ancora riprendere l'espressione kantiana quella che si ritrova nella pace perpetua e me la sono ritrovata perché mi fa piacere riprenderla il problema della costituzione di uno Stato è risolvibile per quanto l'espressione possa sembrare dura anche da un popolo di diavoli purché dotati di intelligenza e il problema si riduce a come ordinare una moltitudine di esseri ragionevoli ecco io credo che qui stia tutto il senso della moralità pubblica quindi in questo ambito in questo ambito dell'etica pubblica non è centrale come diceva il professore prima Merloni non è centrale la bontà del singolo rappresentante del funzionario non mi interessa che sia una persona buona mi interessa che sia una persona corretta trasparente integra per quanto attiene la sua funzione pubblica quindi io sono a favore della distinzione dei livelli per cui un conto è il livello personale della bontà personale un conto è il livello pubblico della correttezza istituzionale dico correttezza per non usare il termine bontà perché sarebbe un po' fuorviante e questa è l'idea secondo me dell'etica secondo la riflessione kantiana laddove appunto lo ripeto si tratta di difendere anche l'idea di una legalità come premesse condizione per ogni discorso sulla moralità pubblica quindi la legalità è il primo punto è il punto da cui partire senza legalità non c'è libertà quindi senza la certezza dei confini dell'agire individuale non c'è lo spazio affinché quell'agire individuale sia un agire moralmente avveduto moralmente corretto la certezza dei limiti quindi io credo che l'etica pubblica serva anche a questo a mappare i confini delle sfere di libertà e a tracciare i confini come confini certi e questo in fondo mi riporta una delle cose che ho ascoltato nella presentazione da parte del secondo autore quando non so se io l'ho interpretato correttamente diciamo che le sue parole sono risuonate così in me quando diceva il professor Merloni alla fine è come se si fosse sempre in circostanza di emergenza si fa tutto come se sebbene ho inteso come se dietro ci fosse un'istanza emergenziale quando non dovrebbe essere così ma che cosa significa per il cittadino questo perché sono risuonate in me queste parole perché quando si dichiara sempre l'emergenza è evidente che non c'è lo sforzo per la garanzia dei confini cosa intendo dire l'etica pubblica in fondo ci invita anche a pensare alla regola come qualcosa da onorare le regole come da onorare perché fissano perché fissano i confini dicevo prima tra le libertà reciproche ma perché anche sono quei confini necessari a stabilizzare le aspettative reciproche insomma l'etica pubblica deve costruire uno schema di aspettative reciproche stabili nel tempo se fosse così non saremmo in una continua emergenza in altre parole quando si dichiara troppo l'emergenza c'è anche una minaccia per la democrazia e la chiamiamo pure una minaccia di dispotismo per dirla in termini un po' altisonanti che appartengono a questo linguaggio perché si vogliono agitare spettri populistici sia chiaro non è questo il punto del mio discorso ecco quindi io ho letto così questa difesa di una burocrazia io l'ho letta l'ho letta come la difesa di questa necessaria stabilizzazione delle aspettative reciproche insomma è a condizione che vi siano regole certe che noi possiamo pensare alla nostra libertà di cittadini dentro gli spazi che ci competono ecco io credo che sia questo poi alla fine che si percepisce come mancante diceva prima professore c'è gente che come dire ad ogni pie sospinto denigra la burocrazia come ha detto ancora ah sì è il momento del fare anche io mi chiedo fare che cosa fare chi per che cosa ecco spesso sono appunto quando io li chiamo vi ho detti poco fa gli spettri che vengono agitati da una cattiva politica che poi di fatto è una politica populistica io sono d'accordo con questo avviso però da cittadina mi rendo conto anche della lentezza di certe procedure e la procedura per me è fondamentale io contesto sempre nel mio piccolo tutti coloro che parlando di procedura la fanno equivalere a proceduralismo e peraltro difendo anche il proceduralismo perché credo che sia anch'esso una forma di etica pubblica e questo perché perché la procedura è garanzia dovrebbe essere garanzia garanzia sui tempi sui modi sulle responsabilità quindi io personalmente ritengo che i principi procedurali abbiano una dimensione normativa abbiano una dimensione etica di cui non possiamo fare a meno per l'intreccio appunto che dicevo prima tra moralità legalità e eccetera che cosa vorrei aggiungere di questa raffazzonatissima mia riflessione più che altro perché ho abbandonato un po' il filo del discorso che mi ero preparata e mi sono lasciata per me preziosamente sollecitare dalle presentazioni mi auguro che non sia una sollecitazione che crei soltanto confusione in chi ascolta io ho individuato tra i capitoli che con molta con molta come dire completezza nonostante la sintesi prima il professor Pirni ha illustrato leggendo un po' l'indice ecco è un indice interessante proprio per le ragioni che lui ha mostrato questo percorrere vari capitoli questo trascorrere attraverso i capitoli per arrivare poi ad una riflessione se vogliamo un po' più potrei dire così ma parlo insomma da studiosa di filosofia una riflessione che diciamo dai concetti passi poi alle politiche alle decisioni all'agire al giudizio sull'istituzione eccetera ecco di questi capitoli due in particolare in particolare mi hanno interessato per ragioni contingenti insomma per ragioni di comunanza di preferenze di gusti se vogliamo appunto ovviamente il capitolo sull'etica per le ragioni che ho detto fino adesso così come mi è in particolar modo interessato il capitolo dedicato al dovere ecco ancora per le ragioni che ho detto questo tenere insieme dovere e libertà per me è un intreccio inevitabile ecco non può andare l'una senza l'altro e a volte questo che per noi è ovvio è meno ovvio per una popolazione forse meno attenta a questi discorsi far capire che il dovere è premessa di libertà e non il suo il suo mi viene infringimento che non esiste in italiano la sua violazione la sua restrizione ecco non c'è come l'oggi per dire che i doveri sono contradditori rispetto alla libertà ecco qui c'è proprio una cattiva comprensione del senso stesso della libertà da cittadini e naturalmente anche questo c'è la responsabilità veberianamente intesa anche questo naturalmente mi ha molto interessato e ritrova totalmente la mia adesione a questa opzione qui appunto io ho avuto già modo di esprimere questo piccolo suggerimento ecco forse un piccolo spazio alla teoria dell'obbligo politico l'avrei riservato a questo capitolo più che altro per passare appunto dalla dimensione più propriamente legale del dovere a quella politica proprio perché parlare di obbligo politico significa insomma fare un po' una scommessa con la realtà alla fine cercare di capire se dietro l'obbedienza alla regola vi sia o meglio il dovere di obbedienza alla regola non vi sia anche davvero un impegno morale profondo ma questo ci porterebbe lontano io ho raccolto infine le ultime parole pronunciate dal professore Merloni quando appunto ha parlato della politica tocca alla politica e qui per me è abbastanza inevitabile tornare alla memoria di quella espressione arentiana quando Anna Arendt dice che cosa è andato storta è andata storta la politica e questo è più che vero è verissimo e questo perché politica significa molte cose e in questo testo politica secondo me è significativo dell'etica dell'etica pubblica e quella politica nel senso più nobile del termine dovrebbe corrispondere alla dimensione della concittadinanza e quindi bisogna che si raddrizzi la politica e questo testo fa la sua parte per raddrizzare la percezione dei doveri dei cittadini so che è un po' un po' abusato questo modo di chiudere però io la chiusa la voglio fare citando una delle diciamo così affermazioni che più di altre mi hanno colpito quando gli autori scrivono è esattamente in questi momenti che diviene del pari necessario fare affidamento sulla moralità delle istituzioni e sul senso non retorico velleitario bensì autentico e consapevole di tale espressione sulla competenza etica e l'integrità di chi le guida ed è chiamato ad amministrarle come pure di chi dà attuazione alle linee programmatiche che si rendono indifferibili ecco è un po' un vezzo quello di alcuni che in modo un po' a Gé chiudono citando gli autori di cui stanno discutendo il testo però ecco io non voglio essere soltanto a Gé nel citare però qui ci sono davvero moltissimi concetti e secondo me c'è la sintesi di questo lavoro affidamento alla moralità delle istituzioni affidamento al fatto che le istituzioni hanno un compito hanno un compito etico e questo è un senso né retorico né velleitario questo mi ha profondamente colpito così come mi colpisce questa espressione competenza etica la competenza etica è tale cioè nessuno nasce imparato neanche nella morale e la competenza etica si acquisisce si acquisisce con la frequentazione dei concetti con la frequentazione di un lessico intelligente chiaro e tale da poter essere letto da chiunque e la competenza è anche politica e nessuno neppure in politica nasce imparato si può diventare politicamente competenti e questo come sanno i presenti nulla ha a che fare con una forma di epistocrazia chiudo qui e ringrazio moltissimo io per essere stata invitata tra voi grazie mille per queste preziosissime diflessioni che sono davvero perfette perché riescono a creare un ponte eccellente fra le due diciamo discipline chiamandole così e coinvolte in questo bellissimo libro quindi è stata una scelta felicissima io sono contentissimo di averla con noi e grazie davvero a questo punto abbiamo un po' di tempo per il dibattito quindi chi volesse parlare si perlote in chat io darò immediatamente la parola interventi che per favore appunto brevi e puntuali in maniera da dare poi la parola di nuovo ad Alberto e a Francesco se non ci sono intanto interventi io forse posso fare un paio di domande che valgono sia per Alberto che per Francesco la prima è questa cioè qual è stato in qualche modo io credo che la grande sfida di un volume come questo e ciò che rende anzi questo volume così importante oltre alla natura interdisciplinare sia anche il periodo in cui è stato scritto perché noi siamo in una fase da un po' di anni in realtà in cui un po' in tutta Europa e non soltanto si vive questa seconda o forse anche di più è condata di neopopulismo in cui quindi questa sfiducia non soltanto verso le istituzioni ma anche verso il diritto che le istituzioni producono da procedure la Costituzione stessa che spesso viene vista come strike jacket come camice di forza che è come se fosse un vincolo irragionevole nei confronti di una sovranità popolare che si concepisce in qualche modo assolutamente libera quando invece la Costituzione è la forma ecco del potere quindi io credo che questa sia grande sfida lo chiedo soprattutto ad Alberto in realtà se effettivamente si può trarre anche un messaggio antipopulista da questo volume o se questo è qualcosa che va al di là della prima regione dietro un'opera come questa poi una domanda più specifica che ha il professor Merloni varie domande in realtà quanto è importante il diritto europeo e il diritto internazionale nella costruzione di un diciamo diritto volto a combattere la corruzione perché noi spesso tendiamo a ridurre il fenomeno giuridico solo quello statale però ci sono indubbiamente tante convenzioni internazionali importanti forse visto anche il ruolo che autorità che come queste hanno si può pensare anche ad un coordinamento tra le stesse e forse anche che ha una convergenza quindi esiste secondo lei un diritto diciamo comparato o delle buone pratiche che in qualche modo hanno favorito l'emersione di un diritto volto a combattere la corruzione questa è un po' una domanda da appunto giurista giurista me ne scuso ecco quindi sarebbero tantissime le altre domande ma mi fermo e lascio invece la parola intanto ad Alessandro Chiesi se i relatori sono d'accordo questo vale ovviamente anche per Roberta Sala io raccoglierei le domande quindi prima Alessandro e poi Andrea Brasini prego Alessandro grazie grazie mille per la parola soprattutto per gli interventi del professor Pini del professor Merloni e della professoressa Roberta Sala e anche del professor Martinico per aver organizzato questo bel incontro la mia domanda nasce di fatto un po' dai dibattiti che con Alberto abbiamo un po' anche dalle suggestioni che sono appunto venute fuori da questa presentazione ed è una domanda inerente alla questione dei fini perché dei fini intesi dal punto di vista politico a questo punto direi perché come si è percepita l'esigenza di creare un lessico per la buona amministrazione è emersa anche soprattutto dall'intervento del professor Merloni ma questo direi che è da molto tempo che ne discute la necessità appunto di una politica che dia un indirizzo si è parlato della questione della semplificazione che sacro santo è necessaria la semplificazione però tutto questo secondo me non è possibile se non si realizza davvero una buona politica e ritorna anche in parte l'intervento della professoressa Sala dell'obbligo politico nei confronti dei cittadini e quindi la domanda che pongo è quali fini alla fine il dibattito pubblico dovrebbe porre l'attenzione molto spesso ad una classe politica che si rivela se non autoreferenziale perlomeno non disposta ad ascoltare se non per i fini elettorali che hanno un respiro molto spesso di cinque anni nella migliore dell'ipotesi questo bene grazie mille Alessandro prego Andrea Brasini grazie Giuseppe ma gli incontri come quello di oggi sono veramente preziosi perché ci invitano ci spingono a riflettere per chi studia diciamo il diritto amministrativo di alcune aree che non vengono adeguatamente valorizzate io voglio fare semplicemente un accenno a una alla necessità che oggigiorno si è secondo me manifestata in maniera ancora più palese di approfondire prospetticamente quello che è il rapporto giuridico amministrativo il legislatore della decretazione d'urgenza decreto legge 76 del 2020 che è intervenuto con questo spirito della semplificazione ad ampio raggio in maniera con effetti paradossali su alcuni aspetti su alcune su alcune norme ha creato dei problemi gravissimi dei problemi gravissimi e quelle sono norme tra l'altro uscite dai ministeri perché quel decreto legge è stato collazionato con tutti gli apporti ministeriali ecco il decreto il legislatore della decretazione in urgenza in quell'occasione ha introdotto nella legge 241 il principio di buona fede lo ha finalmente positivizzato in relazione al rapporto giuridico amministrativo quindi al rapporto di diritto pubblico al di là degli aspetti invece più prettamente negoziare questa è una indicazione precisa cioè quella di rafforzare il parametro dell'azione dell'amministrazione pubblica verso diciamo elementi che prima non erano presi in considerazione a tal punto che io mi spingerei a dire ma non solo la buona fede ma forse anche la diligenza il parametro della diligenza per il funzionario pubblico sarebbe necessario positivizzare e questo mi induce quindi a ripensare quindi il proprio il canone del rapporto giuridico amministrativo anche da un altro punto di vista sarebbe forse il momento questo naturalmente ci vogliono però quelle convergenze politiche forti per introdurre nella nostra costituzione il principio della buona amministrazione naturalmente la buona amministrazione noi la conosciamo grazie alla carta di inizio ma è chiaro che il concetto il concetto di buona amministrazione che dovremmo introdurre nella nostra costituzione dovrebbe essere qualcosa di molto più preciso caratterizzato sul nostro ordinamento e che naturalmente parta dai presupposti che abbiamo già nella nostra carta costituzionale evidentemente ma che rafforzi proprio nella direzione di una maggiore rafforzi il rapporto giuridico amministrativo aprendolo anche alla dimensione dell'etica pubblica da questo punto di vista ecco questo era mi premeva sottolinearlo ecco perché sono importanti questi momenti di contaminazione da discipline differenti grazie mille Andrea se non ci sono altre domande e non ne vedo io lascerei immediatamente la parola magari seguendo l'ordine che abbiamo seguito prima Alberto vedo che prova a dirmi qualcosa dimmi tu Alberto Giuseppe volevo dirti che molto volentieri prendo la parola ma lascerei prima la parola a Francesco Merloni perfetto va bene allora facciamo così prego prego professor Merloni prego allora intanto devo dire che un dibattio anche le domande sono domande che o ciascuna delle quali riapre un seminario io scorro le domande dopo aver fatto i complimenti a professoressa Sala perché devo dire che raramente mi sono sentito interpretato così bene da una filosofa che ha letto il mio libro e il nostro libro potrebbe rappresentarci senza che noi dicessimo una sola parola nel senso di aver colto perfettamente il significato di fondo allora domande il neopopulismo attenzione le vicende storiche sono complicate in questo nostro paese vi ricordo che dopo Mani Pulite in cui sembrava dopo è arrivato Berlusconi cioè è arrivato il massimo rappresentante del conflitto di interessi nel nostro paese e in realtà dopo un momento di grande spinta apparentemente per il ritorno alla legalità abbiamo conosciuto legge ad personam abbiamo conosciuto qualunque intervento anzi forse un processo che forse dal punto di vista culturale è quello di più grave di più grave distruzione dell'etica pubblica del nostro paese cioè ancora oggi ci sono giudici costituzionali e non faccio nomi che si domandano parlando del conflitto di interessi perché noi ci dovremmo occupare del ricco che fa politica quando il problema Berlusconi non era il problema della sua ricchezza personale ma quello degli interessi che curava come interessi particolari e che trasferiva all'interno dello svolgimento di una funzione pubblica che invece per definizione deve essere imparziale cioè il problema è che noi abbiamo avuto vent'anni di obnubilamento di che cosa sono i conflitti di interesse e che cosa voglia dire imparzialità quindi il neopopulismo voglio dire nasce intanto ricordiamoci anche altra cosa che molti movimenti neopopulisti nascono facendo la guerra alla corruzione arrivano al potere facendo guerra alla corruzione e poi dopo se ne dimenticano ma l'altro elemento che più mi interessa è che nella radice neopopulista oggi c'è un rifiuto molto forte non solo della burocrazia ma dell'esercizio di poteri complessi vedete la gran parte della fonte neopopulista in Europa è contro l'Europa le cose che vi ho detto dimostrano che l'Europa se le merita le critiche che subisce perché in realtà l'Unione Europea è un conglomerato di regole e di complicazioni burocratiche nel senso deteriore che giustificano una reazione il problema è che il populismo di fronte alla complessità non si pone il problema di semplificare ma sono il problema di derogare non rispettare eliminare le regole questo è il punto più drammatico che noi ci troviamo per cui il discorso è semplificare semplificare è un obbligo è un dovere va semplificato ma quello che abbiamo cercato di dire l'illusione ottica che ancora oggi gli ultimi decreti Draghi Conte sulle semplificazioni coltivano è che si possa fare una semplificazione solo normativa e qui io faccio un esempio che faccio sempre immaginiamo un codice dei contratti o delle regole sull'amministrazione meravigliose perfette scritte in modo comprensibile e chiaro per tutti ma se io queste regole le affido ad un'amministrazione che non ha funzionari in grado di applicarle quella semplificazione è inutile va fatta non sto dicendo che non serve va fatta ma la cosa fondamentale è che quel funzionario deve essere in condizione di lavorare e qui vengo all'altra domanda sui fini e sulla politica perché la domanda sui fini è molto interessante perché anche noi in fondo con il nostro libro diciamo che le regole sull'etica pubblica e le regole sulla lotta alla corruzione sono per definizione regole bipartisan cioè che riguardano tutti sono le regole del gioco poi una volta che rispettiamo le regole del gioco uno può fare politiche più liberiste e uno politiche più socialdemocratiche ma in realtà forse ci stiamo accorgendo che le cose non stanno esattamente così e che non è vero che sono regole per tutti perché secondo una parte in particolare il liberismo più selvaggio quella che è in discussione è proprio l'amministrazione è proprio l'applicazione imparziale delle regole questo è il tema secondo me che sta avvenendo fuori cioè c'è una parte significativa ma per non parlare di Trump ma voglio dire è Trump l'assalto al congresso io sono ancora scioccato non so voi ma io ancora non mi sono ripreso io non mi sono ripreso dall'assalto al congresso perché è qualcosa che nella mia vita non avrei mai immaginato di poter vedere eppure stiamo in presenza di chi stravolge le regole e laddove non riesce con la via giudiziaria la fa con la forza e c'è un c'è un liberismo che arriva ad arrivare ad odiare le regole e le amministrazioni che seguono le regole fino alla violenza questo è un tema molto significativo io penso che si debba continuare a dire centrodestra centrosinistra le regole sono per tutti però ho l'impressione che non sia così e che comunque anche nella battaglia politica futura c'è un pezzo di battaglia per le regole non è solo una battaglia perché in fondo se diciamo le cose come abbiamo detto cosa vuol dire una buona amministrazione l'abbiamo scritto una buona amministrazione vuol dire un'amministrazione che fa l'interesse pubblico e fare l'interesse pubblico per molti di noi per me sicuramente fare gli interessi per esempio dei più deboli di coloro che sarebbero che non sono in grado di curare direttamente i propri interessi ma sono sfavoriti e quindi l'amministrazione svolge un compito essenziale no? principio d'uguaglianza articolo 3 secondo comma senza le amministrazioni i diritti dei più poveri sono abbandonati quindi in realtà chi dice creiamo delle amministrazioni efficienti lo dice con lo spirito di creare delle amministrazioni luoghi che vanno che devono essere utilizzati da tutti centro-destra come centro-sinistra ma in realtà chi è più affezionato alle amministrazioni che funzionano sono quelli che credono nell'amministrazione che difendono i diritti non so se è chiaro quindi anche il profilo filosofico dei fini e politico dei fini si complica rispetto ad un approccio tradizionale per cui siamo tutti siamo tutti nella stessa parca domanda sulla dimensione internazionale non c'è alcun dubbio noi lo abbiamo detto l'abbiamo riconosciuto senza le convenzioni internazionali e senza l'apprezzamento delle perché voi sapete che ci sono delle convenzioni internazionali ma ci sono anche delle organizzazioni internazionali che fanno monitoraggio sull'applicazione delle convenzioni che è la vera novità l'ONU fa monitoraggio il Consiglio d'Europa fa monitoraggio l'Ocse fa monitoraggio e questi monitoraggi hanno visto seguito con un estremo favore quello che è successo in Italia devo dire che dal punto di vista culturale quasi ci siamo ci siamo trovati di fronte a funzionari europei i quali quasi non credevano possibile che dall'Italia arrivasse questo tasso di innovatività dell'approccio alla prevenzione della corruzione questo è obiettivamente avvenuto ma quindi noi abbiamo per diciamo per ironia della storia più ammiratori all'estero che forse non all'interno del nostro paese no è molto probabile e per fortuna il poco che si è il poco il molto che si è fatto trova in quella sede un difensore cioè quantomeno politiche di diretto e clamoroso smantellamento dell'autorità anticorruzione di quello che ha fatto sono rese più difficili dalla dimensione internazionale il diritto europeo il diritto europeo c'entra meno perché su queste cose l'Europa non ha non interviene lascia i singoli stati di fare le politiche però non c'è dubbio che l'Europa e lo ha fatto anche con il fondo con il piano nazionale di ripresa e resilienza vuole che l'Italia si dia un'amministrazione degna di questo nome però guardate una cosa qui veramente chiudo chi ha studiato il piano nazionale di ripresa e resilienza ha trovato questa cosa curiosa per cui siamo noi italiani che ci stiamo autolimitando dicendo che l'Europa ci impone nelle politiche di reclutamento del personale di reclutare personale solo a tempo determinato io non l'ho letta questa cosa o ce lo siamo fatto dire dall'Europa cioè c'è qualcuno che è talmente convinto che le amministrazioni non vadano rafforzate e su questo il mio giudizio sul governo Draghi è molto critico molto critico pensa che sostanzialmente accredita l'idea che l'Unione Europea ci chieda di fare solo lo stretto necessario per il piano e che quindi possiamo prendere soltanto pochi funzionari salvo come avete visto i giornali che dicono che abbiamo cambiato il mondo avendo deciso di assumere a tempo determinato 24.000 dipendenti di cui 22.000 nel settore della giustizia come dire non abbiamo cambiato in nulla le pubbliche amministrazioni con questo piano in nulla neanche come dire neanche una una leggera spintarella in una certa direzione immobile eh quindi l'Europa in realtà gioca meno eh però sono sono le convenzioni internazionali che lasciano agli stati quindi da questo punto di vista è una battaglia politica da farsi tutta in Italia rimontando decenni decenni in cui tutti sinistra centro e destra hanno abbandonato il tema dell'amministrazione lo hanno abbandonato si sono occupati d'altro e ci troviamo in amministrazioni che sono mentre francesi e tedeschi negli stessi anni anche negli anni della difficoltà finanziaria hanno curato le loro amministrazioni e oggi noi paghiamo uno spread di capacità amministrativa drammatico tra l'Italia che è il vero spread che abbiamo eh non c'è il resto sono tutte sciocchezze il vero spread è la capacità amministrativa italiana rispetto a quella francese e tedesca e quindi l'Europa non ci ha particolarmente aiutato grazie grazie professor Merloni io solo per puntualizzare ti mi riferivo chiaramente a quelle competenze di coordinamento ex articolo 325 TFOE quindi più che altro notte alla frode quindi però indubbiamente è vero che sono molto più sicuramente sono molto più effettivamente è molto più esatto il riferimento soprattutto al dato internazionale grazie anche per la chiarezza con cui ha reso tutti questi aspetti che per noi giuristi sono più familiari ma che indubbiamente sono molto complessi quindi un valore aggiunto per questo libro bene Alberto prego sì grazie grazie molte per queste parole per questa discussione mentre vi ascoltavo parlare a partire da bene con Francesco abbiamo molto parlato e continuiamo a farlo e quindi per me è sempre un piacere una conferma continuare a farlo anche in questa veste e in queste vesti con Roberta da molto tempo parliamo continuiamo a farlo e certo continueremo però mi ha fatto davvero piacere se posso dire continuare questo dialogo anche lungo e con le sue parole mentre dicevo vi ascoltavo parlare e poi ascoltavo le belle domande che sono state poste mi stavo chiedendo caro Giuseppe se questa sera abbiamo fatto un incontro di diritto di filosofia o di cosa nel senso riprendo davvero un'espressione che ha usato magnificamente direi icasticamente la collega amica Roberta la filosofia è qualcosa di molto impuro ebbene questa sera abbiamo dimostrato che forse anche il diritto può e deve essere può e deve esserlo e in questa impurità o impurezza dimostra una sua capacità duplice appunto di grande forza di grande diffusività che fa bene se fa bene a tutti e a tutte cioè non guarda in faccia a nessuna e proprio per questo può guardare può camminare a testa alta di fronte a tutti io credo che davvero si è stato dato un grande esemplificazione di questo e Roberta mi prometto di dire anch'io sottoscriverei la delega senza se senza ma che Francesco Merloni avrebbe potuto firmare o potrebbe farti firmare a tuo vantaggio perché davvero sei stata la migliore interpreta che potevamo che potevo pensare ma che invece non mi hai sorpreso nell'essere ma scusami se sono così diretta nel dirte e ti ringrazio e ti ringrazio molto ben conoscendo la tua finezza però riprenderò sul punto finale un'altra tua espressione molto icastica è vero però quello che ha detto la professoressa Sard fin dall'inizio la soluzione non moralizzatrice della politica questo è quanto abbiamo voluto fare non abbiamo voluto pensare che etica per le situazioni voglia dire beh vogliamoci bene siamo tutti più buoni beh in qualche modo una soluzione si troverà insomma proviamo a metterci al tavolo animati da buona volontà no l'idea è sempre stata una e una sola diamo buone ragioni e buone motivazioni per intraprendere alcune decisioni ovvero per abbandonare definitivamente alcuni comportamenti siano essi propri di un comportamento etico siano del singolo cittadino siano essi propri di un comportamento etico ma anche funzionariale appunto di chi l'istituzione rappresenta siano essi propri della voce che l'istituzione esprime nel provvedimento che essa distilla promulga o promuove o mette la discussione degli ordini legislativi e deliberati in questo in questo l'idea del livello personale livello istituzionale del funzionario e della sottile membrana che deve separare entrambi che possiamo chiamare in molti modi Andrea Blasini opportunamente la chiamava la ricordava come diligenza potremmo chiamarla decoro avrebbe bisogno e avrà forse speriamo bisogno di ulteriori chiarificazioni su questo spero avremo la forza e la motivazione di non sopprarci a questo compito però la domanda che Giuseppe Martinico ha posto relativa al populismo mi sembra davvero significativa e degna di essere più e meglio percorsa provo a dirlo in poche battute eh hai ragione Giuseppe nel pensare che il populismo come dire sia un po' almeno copra una parte direbbe sempre Hegel del nostro tempo appreso in pensieri cioè esprime un'anima se vogliamo dire un'anima nera del nostro tempo però faremo poca giustizia a noi stessi al nostro ruolo di scienziati sociali di filosofi e di giuristi se volessimo semplicemente ignorare dire vabbè se ne occupi pure qualcun altro noi abbiamo ben altre cose più importanti da fare allora però non uso per populismo non uso per non spreco scusatemi per populismo il termine di filosofia però lo vorrei qualificare come una sorta di de filosofia della semplificazione de filosofia della scorciatoria ecco se questo libro ha voluto dire qualcosa ha voluto dire che la moralità dell'istituzione ovvero un tentativo molteplice a quella grande male dell'istituzione che è la corruzione prima che finanziaria politica personale individuale ma anche di gruppo ha bisogno di una risposta complessa insomma se vogliamo rifondare o risemantizzare cioè dare un significato alla sfida della convivenza all'interno e dentro regimi democratici dobbiamo pensare che questa davvero non ha bisogno di semplificazioni ma ha bisogno di risposte complesse ecco perché fare un lessico ha a mio avviso Giuseppe un profondo senso azipopulistico cioè a dire signori non abbiamo bisogno di semplificazioni guardiamoci anche stiamo molto attenti nei confronti delle scorciatorie e nei confronti per questo parlare bene di parole o provare a come dire rifondare un uso consapevole di parole guardiamoci bene da alcuni dei mali dei nostri tempi cioè che sono ratificati l'ha detto anche molto bene Francesco prima dalla burocrazia zero basta andiamo verso la semplificazione tagliamo l'acce e la suole abbiamo bisogno di procedere veloci ma che cos'è questo se non un creare spazio per populismi a venire insomma non abbiamo non stiamo dicendo non stiamo facendo un inno alla lentezza della gira amministrativa ben lungi non è questa l'intenzione mai vorrà essere stiamo però facendo non tanto un inno ma un tentativo di lessico di discorso a favore della giusta di nuovo con Andrea diligenza e velocità no da diligere no guida verso un fine verso un orizzonte che non soffra di necessità di semplificazione cioè noi abbiamo bisogno di semplificare ma non di semplificazionismi che semplicemente tagliano i nodi ma semplificazioni che partano dalla consapevolezza del complesso che sta alla spalla spesso il populismo taglia il nodo cioè toglie il complesso e dice ma lavoriamo con la pancia o con le mani in teoria siete tutti bravi ma la pratica funziona in un altro modo beh chi fa questi discorsi io sempre ti muore perché inizio a dire quando qualcuno dice beh ciò vale in teoria ma non vale per la pratica in realtà non è perché la pratica non ha bisogno di teoria ma semplicemente quella pratica ha bisogno di un'altra teoria di una teoria che sappia comprenderla più e meglio ecco allora vengo al punto che ha già per carità assolutamente opportunamente contrappuntato a Francesco ma che poneva Alessandro Alessandro Chiesi la questione dei figli e beh ancora una volta parlare di lessico per le istituzioni significa fare un'operazione quasi se mi permettete anti-elettoralistica insomma si suole spesso dire che il politico è colui il quale pensa alle prossime elezioni lo statista pensa alle prossime generazioni allora il pensare a ristabilire le regole del gioco a ristabilire la logica per una sostenibilità dell'istituzione di lungo termine significa qualcosa fare qualcosa di antipolitico se per politica si intende il passare alla cassa ovvero all'incasso del sostegno elettoralistico del qui ed ora ma profondamente politico ci direbbe e diremmo insieme a Roberta Sala se pensiamo che politica significa appunto cura della città ma non cura della città nel qui ed ora ma cura della città qui esattamente perché dopo il qui e dopo dopo l'ora qui possano stare e vivere bene altre generazioni allora pensare alle regole significa ancora una volta pensare ai fini in qualche modo cioè pensare a come poter costruire ragioni di una convivenza avvenire che sempre su quei binari possa fondarsi e su quei binari ci invitava conclusivamente davvero chiudo a riflettere Andrea Andrea Blasini quando evocava i profili del DLGS 76 2020 decreto semplificazioni e tutte le successive modificazioni che dobbiamo ancora attenderci beh proviamo a positivizzare il parametro della dirigenza ci diceva ma sicuramente questo sarebbe uno dei temi da anche esso da risemantizzare ancora più ancora meglio proviamo a inserire il principio di buona amministrazione nella Costituzione io dico assolutamente sì ovvero perché no chi è che ha paura di inserire o a qualche timore o a qualche resistenza ce lo ricordava anche Francesco resistenze culte e occulte della politica rispetto a questo lemma beh chi pensa chi ha paura dicevo della buona amministrazione di metterlo come dovere sommo cioè dovere di rango costituzionale beh chi pensa che poi da quel dovere devono discendere delle pratiche delle azioni se io lo metto in Costituzione devo fare delle operazioni volte a preservarlo se io non lo metto in Costituzione mi lascio uno spazio per approfittare dell'amministrazione un po' meno che ottima cioè lascio che la non così ottima amministrazione dia o consenta o conservi spazio alla mala gestio ci direbbe Gaetana Morgante se fosse qui al tentativo di approfittare di quegli spazi di manovra opachi o obliquidi rispetto alla gira amministrativa ovvero a pensare che dell'inefficienza della medesima si possa fare lucro sotto un duplice profilo sotto il profilo di chi dice vabbè ma se volete se volete avere le cose evitate la gara d'appalto evitate le regole date degli incarichi diretti frazionate l'appalto in più in più passaggi in più segmenti che possono andare un po' sotto soglie quindi avere un regime di controlli inferiori oppure chi di nuovo Giuseppe populisticamente dice beh dobbiamo riformare la pubblica amministrazione basta burocrazia pensiamo a un vero recovery plan pensiamo a una vera rifondazione della buona amministrazione e di ciò fa cassa o gran cassa politica per la prossima elezione ecco allora chiudo ricordando le parole che ricordava Roberto di cui ancora alla quale va la mia gratitudine il tema della competenza etica ebbene come se comprendiamo che tutto ciò è un lungo detour per dire competenza etica nella e per le istituzioni bene come si esercita come si sollecita sicuramente pensando che non sia qualcosa di evitabile qualcosa di nice to have bella se c'è ma non ci importa se non c'è e pensando che che la formazione tecnica dei funzionari a venire non possa andare disgiunta dalla formazione etica dei funzionari a venire pena il pensare che la tecnica sola ci possa salvare e l'etica ci faccia come dire rallentare in realtà se questo libro ha voluto dire qualcosa ha voluto dire che l'etica aiuta a farci camminare veloci corretti e potenzialmente focalizzati verso uno scopo di miglior convivenza per la presente generazione e per quelle a venire grazie davvero per questa discussione grazie mille Alberto allora non so se la professoressa Sara devo raggiungere qualcosa diciamo o se o se ci sono altre domande e se non è sono assolutamente assolutamente ricolma di tutte le parole che ho ascoltato di cui ancora ringrazio grazie mille e bene se non ci sono altre domande io non posso che ringraziare nuovamente i nostri ospiti per questo bellissimo webinar e sono stato felicissimo di averlo pensato del congiacomo delle donne e di averlo realizzato con voi ho imparato tantissimo e quindi auguro a tutti i partecipanti una buona serata e vi ringrazio ancora posso fare una conclusione si prego certo tre parole prego tre parole prego teniamoci in contatto senz'altro senz'altro grazie mille senz'altro giuseppe giuseppe